sai che la violenza può esprimersi in tante forme diverse se viene impedinata e subisce appostamenti probabilmente sei vittima di stalking fai attenzione puoi esserlo anche se ti tempesta di regali e di dediche indesiderate se le sue attenzioni stanno diventando eccessive e ti mettono ansia se ti costringono a cambiare le tue abitudini di vita o ti senti in pericolo se vivi una relazione in cui subisce offese e omiliazioni probabilmente sei vittima di maltrattamenti fai attenzione puoi esserlo anche se non ti dà la possibilità di esprimerti se ti impedisce di sentire i tuoi amici se controlla spesso il tuo cellulare se ti priva delle risorse economiche necessarie a salvaguardare la tua indipendenza e la tua dignità non sottovalutare queste situazioni parlane con qualcuno chiama il 15 22 e confidati con un'operatrice rivolgiti al 112 per richiedere un intervento in emergenza vai alla stazione dei carabinieri più vicina per presentare denuncia grazie a tutti 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 grazie a tutti